Quali sono le sue impressioni su questo allestimento? Grazie, grazie davvero per la domanda. Ho trovato davvero straordinario che un'azienda del biotecnologico, quale la mondo biotech, abbia pensato e realizzato soprattutto una struttura, uno showroom, per presentare la realtà internazionale delle malattie rare. Io ritengo che una struttura come questa possa davvero fungere come elemento di aggregazione di interesse per tutta la realtà del mondo associativo, ma non solo, penso anche ai ricercatori, proprio di convergere verso un punto dove tutti i saperi e le conoscenze specifiche possano essere in qualche modo messe in relazione. Cosa pensate dell'approccio della mondo biotech? Conosco l'approccio di mondo biotech che è fondato su un concetto chiave molto particolare, che è quello dell'open source. Dal momento che la realtà delle malattie rare, parlo della realtà della ricerca, necessita di approcci nuovi perché è una realtà estremamente complessa, io penso davvero che l'open source possa essere una chiave importantissima al fine di trovare terapie davvero efficaci per le malattie rare. Avete suggerimenti o delle idee da proporci per migliorare tutti i progetti? Un colloquio, ma questo è solo un suggerimento che vuole essere una sottolineatura dell'importanza dell'idea, è quello di avere sempre presente la realtà del mondo associativo, parlo anche di organizzazioni sia nazionali che continentali, quali possono essere per esempio iurortis, perché il mondo delle associazioni ormai, a mio avviso, è sufficientemente maturo per collaborare e dare degli stimoli che siano veramente produttivi nell'interesse soprattutto dei malati rari. Giusto. E volete anche contribuire attivamente al progetto? Noi per esempio abbiamo recentemente sottoscritto, questo è proprio un esempio, come associazione di malattia rara, in questo caso l'epidermolisi bollosa, noi abbiamo sottoscritto una convenzione con l'Università di Modena dove opera un gruppo di ricercatori particolarmente dedicato a questa patologia. Però, ripeto, la collaborazione, mondo delle associazioni e strutture, imprese come mondo biotech, penso che veramente possa fare la differenza, soprattutto accorciare quello che interessa ai malati, alle famiglie e accorciare i tempi per arrivare a trattamenti efficaci.